Ciao a tutti vai da Rosi, ciao Daniele, ciao Rosi, ciao a tutti, oggi ci troviamo a Parma, bellissima città ma soprattutto ci troviamo in un luogo bellissimo, Antares, service, Mercedes e Smart e naturalmente anche proposte per quanto riguarda i Volkswagen, ma vogliamo parlare prima del service visto che è veramente il fiore all'occhiello? Sì, ci troviamo qui a Antares che è la sede principale in via Lavagna numero 1, poi c'è un'altra sede a Fidenza dove chiaramente voi clienti potete andare a trovare tutte le offerte di questa splendida azienda, questa è una sede storica perché pensa che è dal 1972 che è presente sul territorio per proporre efficienza, per proporre in maniera molto attenta il service Mercedes perché in questa sede potete trovare veramente tutto quello che desiderate per la vostra autovettura Mercedes con tutta una serie di offerte che potete trovare anche visto che ci siamo, che ce l'ho in mano, se no poi ecco, potete trovare benissimo anche su questo splendido sito. Rosi, quali sono le cose che ti hanno colpito di questa splendida sede che ti ha detto mamma mia bisogna venire assolutamente qua? Assolutamente bisogna venire qua perché c'è un service veramente molto attento per cui per qualsiasi esigenza della vostra vettura anche il servizio rapido perché io sono andata a farmi un giro appunto dentro l'officina, intanto vi stiamo facendo vedere anche le immagini, ma soprattutto è molto importante sottolineare anche il servizio fuori dalla sede perché sono a vostra disposizione per un servizio che va anche ai privati per quanto riguarda le autovetture di pneumatici che vengono montati direttamente con un piccolissimo contributo direttamente al vostro domicilio, per cui voi acquistate i pneumatici qui e naturalmente verranno montati direttamente al vostro domicilio, questo vuol dire perdere veramente pochissimo tempo e mi sembra molto importante. Naturalmente poi c'è anche un'altra cosa che è rivolta soprattutto alle aziende, quindi alle flotte commerciali, a chi compra il veicolo commerciale, anche questo al vostro domicilio sono 15 officine mobili che vi permetteranno di non restare mai fermi, pensate che addirittura lavorano di notte, questo mi ha colpito veramente molto, hanno dei punti logistici dove appoggiarsi e hanno le officine mobili dove venire appunto a intervenire sul vostro mezzo commerciale in modo da lavorare di notte e la mattina siete pronti per eseguire il vostro lavoro, mi sembra veramente una cosa importantissima. importantissima, unica ed è frutto come dicevo prima di 46 anni di esperienza rivolta verso il cliente. Chiaramente Antares... Ah, perdonami, perdonami, servizio svolto in tutta Italia. Servizio svolto in tutta Italia. Ecco questo mi sembra importante, non solo a Parma e Fidenza dove ci sono le sedi, ma in tutta Italia, per cui è molto importante. Chiaramente per fare questo Antares dispone di una sua carrozzeria che è dedicata proprio alle vostre autovetture, ma anche di un magazzino ricambi molto fornito perché vanta oltre 20.000 pezzi a catalogo sempre disponibili proprio per darvi una assistenza a 360 gradi. Tutto questo poi è, diciamo così, aumenta il valore della società di Antares anche per quello che riguarda la proposta commerciale perché chiaramente essendo un'officina autorizzata Mercedes Smart non può non avere per i propri clienti delle occasioni assolutamente uniche che prelevano direttamente da un sito, come possiamo dire, dal bacino della casa automobilistica che dà a loro la possibilità di disporre di autovetture chilometro zero piuttosto che usate, ma usate veramente pochissimo, addirittura nel 2017, abbiamo visto anche qualche macchina nel 2018 con dei prezzi super interessanti che adesso andremo a vedere anche in compagnia del direttore vendite che ci aspetta proprio per proporvi un'autovettura particolare. Certo, aggiungo solo una cosa importante per quanto riguarda il service, naturalmente il servizio pneumatici viene effettuato su vetture di tutte le marche, quindi non è necessario che abbiate comprato quella vettura e che sia una Mercedes o una Smart, può essere qualunque vettura, l'importante è comprare qua naturalmente i pneumatici e poi per quanto riguarda i servizi di officina di tagliandi, naturalmente potrete venire con la vostra vettura anche se non è Mercedes Smart verrà eseguito il tagliando e se occorre vi verrà data anche l'auto sostitutiva, magari così avrete occasione di provare una Mercedes o una Smart e magari chi lo sa di cambiare idea se magari avete una vettura di altro marchio. Andate sul sito www.antaresparma.it dove tra l'altro parlando proprio di tagliandi trovate una cosa molto interessante, per ogni linea di prodotto, GLA piuttosto che classe A eccetera eccetera, c'è proprio una promozione particolare dove in nome della più assoluta trasparenza vi danno già il prezzo del tagliando, per cui potete già vedere esattamente quanto andate a spendere e addirittura se non ricordo male c'è addirittura un congelamento del prezzo dei tagliandi per le Smart che per se non ricordo male fino al 2020 vi dà la possibilità di avere il prezzo bloccato, però andate bene a vedere. Insomma abbiamo già parlato troppo Daniela, andiamo a vedere le auto? Andiamo a vedere le auto in maniera tale che ci possiamo muovere in questo universo meraviglioso di Mercedes e soprattutto andare a vedere quelle che sono le offerte commerciali dedicate a voi che guardate questa trasmissione. Chiaramente i commerciali, adesso parleremo con il responsabile commerciale, hanno nel cassetto delle offerte particolari per voi dedicate proprio a chi ha visto questa trasmissione, per cui quando venite qua non dovete far altro che chiedere ai vari responsabili, ne abbiamo addirittura due consulenti barra tre in questa sede di Parma, ne abbiamo tre anche nella sede di Fidenza, per cui andate senza indugia a chiedere di vedere, provare le autovetture col vostro usato in permuta e chiedete l'offerta commerciale dedicata alla televisione. Partiamo da questa Mercedes CLA 200, Station Vagon automatica, autovettura pari al nuovo perché dal maggio 2017 con 12.685 km, proposta a 27.900 euro. Non vi parlo degli accessori perché chiaramente, come sapete, dovete andare a vederli sul sito perché nel sito trovate tutte le specifiche dirette dell'autovettura. Parliamo di questa invece Mercedes CLA 200, diesel, automatica, sport, pacchetto night, qua il venditore ha scritto bellissima, effettivamente è bellissima perché pari al nuovo, 21.328 km e del marzo 2017 è proposta a 27.700, chiaramente avendo l'assistenza, il magazzino ricambi, la carrozzeria, le autovetture sono tutte ricondizionate esattamente pari al nuovo con la garanzia residua della casa automobilistica. Adesso Mario ci spostiamo un pochino alla mia sinistra dove abbiamo la Rosi che ci aspetta con il responsabile commerciale di Antares che ci parlerà di un'offerta assolutamente imperdibile su questa C200 diesel automatica che ha un prezzo veramente bomba. Perfetto, e ne parliamo naturalmente con Stefano Moranni che è qui accanto a me. Una cosa prima di passare il microfono, mi raccomando dite di aver visto questa trasmissione perché c'è qualche cosa, qualche sorpresa per voi. Ciao Stefano intanto. Ciao Rosi, ciao Rosi. Ti volevo dire, allora queste qui sono tutte autovetture che noi andiamo a acquistare direttamente da Mercedes-Benz Italia, quindi sono prodotti di remarketing e dove noi andiamo su un sito particolare andiamo ad attingere e compriamo il prodotto con un massimo un anno di vita. Questa qui è una bellissima classe C, 200 sport, argento selenite, quindi un'autovettura 1.6 diesel con 136 cavalli, un'autovettura che noi proponiamo a 29.600 euro quando di listino ne costa quasi 45, quindi c'è uno sconto abbastanza importante. Questa è un'autovettura con i cerchi lega da 17, i fanali full led, fronte retro, navigatore cartografico, sedili avant-garde, quindi un'autovettura pelle e tessuto internamente, volante multifunzione, fanali a led e navigatore cartografico. Quindi un'autovettura che direi ha un prezzo veramente interessante, quindi... Stefano, pochissimi chilometri perché io li ho visti... 12.000 chilometri, 12.000 chilometri. Per cui ha acquistato una vettura che di listino costerebbe 45, l'ha acquistata a questo prezzo straordinario e ha percorso 12.000 chilometri, per cui è praticamente nuova. Nuova e poi con la possibilità di estendere la garanzia, quindi un'autovettura che ha una garanzia fino al 2019, con la possibilità di estendere per un altro anno, altri due anni, con un chilometraggio o 200.000 o chilometraggio illimitato. Quindi direi che c'è proprio la convenienza per poterla venire ad acquistare da oggi. Direi che è un attore nato, lo prendiamo con noi. Andiamo avanti, vi tolgo la scena e vado avanti così ne presentiamo il più possibile perché penso sia quello che i nostri clienti desiderano. Mercedes-Benz GLA 180 Diesel Automatica Business, questa è un'autovettura del 2016 proposta a 25.900 euro. Quello che diceva prima Stefano è assolutamente interessante, c'è la possibilità di estendere il pacchetto di garanzia. 12.900 euro per questa Smartphone 2 Cabrio dell'aprile 2017 con 11.600 chilometri, qua ne abbiamo un'altra bianca a 15.400 euro con 21 chilometri, praticamente questa è un'autovettura a chilometro zero. Qui abbiamo una cabrio perché siamo nel momento giusto, la primavera sta arrivando, avete la possibilità di andare con i capelli al vento a farvi un giro in Costa Azzurra? Perché no? Mercedes C220 Diesel Cabrio Premium Automatica 40.900 del aprile 2017 con 22.669 chilometri. Vedete che su tutte le autovetture c'è questo cartello. Questo cartello è un remind, un appunto, una nota interessante per i clienti perché parla di quello che è il sistema di protezione che Antares vi offre per il valore dei vostri soldi, per i famosi 40.900 euro che voi state spendendo perché chiaramente chi compra un'autovettura di questo genere si presume che la voglia proteggere. Ecco, qui da Antares potete trovare delle formule assicurative che vi danno la possibilità anche in caso di furto totale per i primi 4 anni di preservare assolutamente il valore dei 40.900 euro. Ergo, se vi dovessero rubare la macchina, nei primi 4 anni avete la possibilità di tornare qui da Antares e di avere a vostra disposizione ancora 40.900 euro per riacquistare un'autovettura qui da loro. Con tutta una serie di accessori e di garanzie, oltre il furto incendio classico, che vanno addirittura a coprire gli eventi sociopolitici, gli eventi naturali e perché no anche in casi particolari come gli urto con animali selvatici e vetture non assicurate perché ricordate che ci sono ben 5 milioni di autovetture che circolano senza. Adesso andiamo di nuovo da Stefano perché c'è questa C180, preferisci andarmi sulla classe A? Andiamo sulla classe A Mario perché anche su questa abbiamo un prezzo unico, un prezzo eccezionale, un prezzo che solo Stefano ci potrà dare perché merita assolutamente di essere preso in considerazione. Le macchine si possono provare Stefano? Si possono provare tutte, siamo partosta per farle provare. I clienti le trovano sia qua che a Fidenza? Parma Fidenza, nella filiale di Fidenza, via Coduro 1-C, ci sono i colleghi, quindi i macchine sono tutte disponibili. Finanziabili? Finanziabili, l'intera cifra fino a? 72 mesi riusciamo a finanziare il tutto. Perfetto, andiamo avanti. Allora, questo qui è un prodotto veramente interessante, uscendo adesso la classe A modello nuovo, noi proponiamo delle autovetture a chilometri zero, quindi immatricolate febbraio 2018 con 10 chilometri, a un prezzo veramente interessante. Questa è un'autovettura a 180 diesel, col pacchetto night, quindi vetri oscurati, mancorrenti neri, cerchi da 18, autovettura che di listino è circa 36 mila euro, la proponiamo a 25 mila e 900 euro, con garanzia fino a febbraio 2020 con la possibilità di finanziare e di riterare il vostro usato. Scusate, io non vorrei interrompere questo discorso però, siamo arrivati alla fine del tempo, naturalmente visitate il sito, venite a Parma, in via Lavagna oppure andate a Fidenza in via Codura al numero 1 per approfittare di questo fatto. Da lunedì al sabato, chiaramente. Grazie Daniele, grazie Stefano, grazie a voi e grazie a tutti voi. Grazie a voi e alla prossima. Grazie a voi.